Signori, oggi voglio iniziare il video citando due commenti che sono stati lasciati sotto al video del prepartita di Milan-Napoli. Io faccio i complimenti a Giuseppe Cantalino che azzecca il risultato esatto, Milan-0-Napoli-2, ma faccio i complimenti anche a Gianni Spina che non ha preso il risultato esatto, anche se ci è andato molto vicino, però i marcatori li ha presi, Kvara e Lukaku. Quindi io faccio i complimenti a questi due ragazzi, detto questo, sigla. Allora signori, allora, com'è bello svegliarsi la mattina sapendo di dover fare per genere di una vittoria tutto sommata importante e dal significato enorme. Oggi è mercoledì, sì, oggi è mercoledì, quindi buon mercoledì a tutti quanti, benvenuti sul canale se siete nuovi, bentornati ai vecchi, se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi che è totalmente gratis e oggi siamo qui per fare appunto le pagelle, quindi direi di non perderci in ulteriore chiacchiere e partiamo subito. Cambiamo quindi inquadratura e prima però di andare con le pagelle, voglio un attimo, come sempre, soffermarmi sulle statistiche. Allora, innanzitutto, l'attacco momentum. Come dissi anche nel post partita di ieri sera, il periodo più sofferente della partita è stata la parte centrale del primo tempo. Voi potete vedere il Napoli a inizio e a fine primo tempo ha il controllo bene o male della partita, fa il gol del 1-0 inizio partita, poi nella parte centrale il Milan prende il controllo del campo della partita e abbiamo rischiato qualcosina. Nel finale, poi, gol del 2-0. Nel secondo tempo, comunque, come potete vedere, c'è stato più attacco del Milan, però tutto sommato, Meretta ha dovuto fare nel secondo tempo soltanto la parata sulle Aos, quindi il Milan si ha attaccato, ma non è stato per niente pericoloso, a mio avviso. A livello di numeri, il Napoli perde, tra virgolette, il dato sul possesso palla, 39% contro il 61% del Milan, ma era assolutamente prevedibile, era una cosa del genere. A livello di XG, il Napoli fa meno tiri rispetto al Milan, 9 contro 13, però a livello di XG è più pericoloso, 1.13 contro il 0.69 del Milan. A livello di posizioni medie, come potete ben vedere, nel primo tempo il Napoli si è schierato con un blocco, diciamo, medio. Non c'è stata una difesa, tutto sommato, schiacciata verso la nostra area di vigore. Si vede chiaramente un 4-5-1 con Politano sulla linea del centrocampo, però diciamo che Politano si è alternato tra centrocampo e difesa. Unico giocatore oltre la linea del centrocampo, Lukaku. Cosa interessante, la squadra è tutta, diciamo, spostata verso il lato destro del campo. Quindi questo cosa significa? Significa che praticamente il Milan ha spinto molto sulla nostra fascia destra, quindi sulla loro sinistra. Quindi Catena, Terracciano, Loftus-Cic, Okaforra. Quaratschelia e Mectomini più avanzati rispetto agli altri centrocampisti. Mectomini si è visto molto bene ieri a fare proprio l'attaccante aggiunto, cioè sembrava a tutti gli effetti quasi un 4-4-2 con Quara che stava un po' in una situazione intermedia tra il centrocampo e l'attacco. Mectomini faceva proprio l'attaccante sinistro, l'attaccante centrale di sinistra con Lukaku che si defilava un po' sulla destra. A livello di baricentro, come potete vedere, primo tempo baricentro tutto sommato a ridosso del cerchio di centrocampo con una lunghezza di 24.8, quindi baricentro diciamo medio-alto e tanta compattezza. Nel secondo tempo il baricentro rimasto comunque medio-alto è venuto a meno un pochettino di compattezza perché il baricentro da 24 metri si allunga a 28, quindi nel secondo tempo ci siamo un pochettino allungati. Però ripeto, il Milan non è stato così tanto pericoloso nel secondo tempo. Detto questo, possiamo continuare e andiamo a fare le pagelle. Partiamo da Alex Meret che si prende un bel 7. Ragazzi vi avviso che usciranno voti alti perché dopo la partita di ieri sera è giusto dare voti alti. Meret 7. Meret fa la parata su Ciuco Eze nel primo tempo, fa l'uscita su Musa dove c'è l'incomprensione tra Buongiorno e Gilmour e quella secondo me è stato l'intervento decisivo della partita e Meret lì ha dimostrato tanta personalità. Io sono convinto ragazzi che il Meret, diciamo del recente passato, quell'uscita non l'avrebbe mai fatta e forse avremmo preso anche gol. Non lo so sinceramente perché Musa non è proprio uno coi piedi proprio finissimi, però ha fatto un'uscita molto molto importante. E poi nel secondo tempo la parata su Leao, l'unica forse vera occasione pericolosa che ha creato il Milan nel secondo tempo. Quindi tutto sommato quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. Una mezza papera sul gol di Morata con l'annullato? Probabilmente sì, però il gol è stato annullato quindi non lo considero quell'occasione. Di Lorenzo 7. Di Lorenzo ha tenuto molto bene su Okafor, tanto spinta in avanti come sempre, ha rischiato anche di fare un gol su quel cross che si è trasformato in tiro che stava per sorprendere un po' Mignan. Chiusura clamorosa, salvataggio provvidenziale col tacco nel secondo tempo su un cross basso dalla destra. Con l'ingresso di Leao non si spinge più tanto in avanti ma cerca di stare dietro appunto per assorbire, per rendere meno pericoloso il portoghese. Tutto sommato partitura anche ora una volta del capitano. 7. Rachmanis 7. Rachmanis anche lui, attento, concentrato, chiusure determinanti quando c'era bisogno. Lui innesca il gol dell'1-0, che vi ricordo, due passaggi. Come sempre una certezza in fase di impostazione, ancora una volta quasi il 100% di precisione sia sui passaggi corti che su quelli lunghi. Io voglio sempre ribadire una cosa, ragazzi, Rachmanis non è un difensore top, non è un fuoriclasse, non è un difensore che secondo me giocherebbe nei top club europei. Però quando gli metti vicino un difensore più forte, si vede che lui migliora molto il rendimento. Quando c'era Kulibaly? Bene. Quando c'era Kim? Benissimo. Ora che c'è Buongiorno? Benissimo. Buongiorno, anche lui 7. Sarebbe stato un 7,5 perché comunque lui ha fatto più chiusure, più salvataggi, più intercettazioni rispetto a Rachmanis. Però quell'incomprensione che c'è stata con Kilmo nel primo tempo gli fa perdere mezzo punto perché rischiava di essere un'occasione clamorosa per l'avversario. E io qui voglio un attimo soffermarmi perché voglio analizzare insieme a voi cosa è successo. Allora, siamo al 26esimo. Buongiorno al pallone. Qui abbiamo Kim. Allora, cosa poteva fare Buongiorno in questo caso? Poteva magari fare un lancio lungo sulla fascia sinistra? Sarebbe stato forse rischioso. Poteva passarla ad Agnissà? Forse sì, forse no. Poteva magari fare un cambio gioco e andare su Di Lorenzo? Ipotesi probabile. Poteva fare un lancio verso Politano? Potrebbe. Oppure molto più banalmente poteva scaricarla all'indietro per Merette che magari poteva fare il rinvio su Lukaku. C'erano secondo me varie opzioni per Buongiorno, qualcuno un po' più difficile, qualcuno un po' più facile. Alla fine decide di andare su Gilmour, però fa un passaggio diciamo in questa direzione, mentre Gilmour si sta spostando in avanti. Quindi non è un passaggio che segue il movimento di Gilmour. Quindi Buongiorno fa un passaggio che va in opposizione al movimento che fa Gilmour. Quindi secondo me qui è più errore di Buongiorno che errore di Gilmour. Gilmour poi non può fare niente lì secondo me, perché comunque stava andando avanti. Poi è anche scivolato, c'è stato il padadrack, però ripeto, Merette fa l'uscita su Musa e quindi veniamo salvati da Merette. Ragazzi io ad Olivera devo dare l'otto, devo dare l'otto perché con Conte sta avendo una crescita clamorosa. Sta diventando sempre più impattante in fase difensiva. Anche ieri chiusure, l'ho visto spesso buttarsi in avanti per fare pressing alto. Difensivamente veramente ieri quasi un muro invaricabile e poi aggiungiamoci che davanti ha dato il suo contributo. E io qui voglio parlare del gol di Kvara. Ragazzi il gol di Kvara è la conferma su quello che io vi dico sempre. Cioè quando si dice che Kvara non salta più l'uomo, che Kvara non è più decisivo, bisogna sempre ricordarsi il famoso gioco di squadra. Ragazzi allora innanzitutto Olivera, lo potete ben vedere, è centrale. Terzino interno, esterno, largo. Passa la palla appunto a Kvara che si trova sulla fascia. E che succede qui? Inizialmente Kvara è uno contro due. Perché ci sono sia Royal che Fofanà se non sbaglio. Comunque Kvara è uno contro due. Che succede però? A un certo punto Kvara inizia comunque a cominciare a tagliare verso il centro. In contemporanea c'è Olivera che si butta in aria, fa la sovrapposizione interna e con questa sovrapposizione interna Olivera attrae Emerson Royal. E quindi che succede? Olivera facendo la sovrapposizione libera Kvara e gli permette quindi di fare non più l'uno contro due ma l'uno contro uno. E ragazzi nell'uno contro uno Kvara ha vinto e ha fatto il gol. Cioè il gol di Kvara è quello che io vi sto dicendo da sempre. Cioè Kvara se mi è lasciato solo contro due contro tre è normale che non rende. Ieri sera c'è stato l'aiuto del terzino che facendo il movimento dentro l'area ha liberato un uomo a Kvara che non ha fatto per uno contro due ma l'uno contro uno. Do l'otto a Olivera anche per come ha contribuito al gol di Kvara. Quindi quando si dice Kvara non rende ricordatevi sempre che il calcio è comunque uno sport di squadra e al gol ci si arriva appunto grazie al gioco di squadra. E qui si è visto il gioco di squadra. Olivera fa il movimento interno e libera Kvara dalla doppia marcatura perché Royal si vede chiaramente si stacca da Kvara e va a mettere una pezza su Olivera che si era buttato dentro. E quindi non c'è più l'uno contro due ma l'uno contro uno. Quindi ottimo qui Olivera. Gilmour 7 sta comunque crescendo. Ieri sera ho visto comunque un lavoro difensivo di Gilmour che sta migliorando. Dal punto di vista dei passaggi come sempre una certezza. Gilmour ragazzi tra l'altro è stato colui che ha innescato il 2-0 perché su un lancio lungo del difensore del Milan lui di testa va a intercettare la palla. Sull'incomprensione di Bongiorno ribadisco che secondo me è più errore di Bongiorno che errore di Gilmour. Però tutto sommato il 7 se lo piglia e comunque sta sostituendo a mio avviso in modo egregio lo Botka che in teoria domenica dovrebbe tornare. 7 anche da Nghissà. Ancora una volta tanto lavoro nella doppia fase. Ieri comunque è stato anche pericoloso davanti perché un paio di palle pericolose dentro l'area le aveva messe. Aveva fatto anche un tiro da fuori aria che era un siluro terra aria. Veramente un tiro con una forza clamorosa che purtroppo però non è andato in porta. Tanto lavoro dietro tanto lavoro avanti. E poi ragazzi ciliegina sulla torta l'assist per lo 0-1 di Lukaku. E parliamo un attimo del gol appunto dello 0-1 perché secondo me qui c'è proprio la dimostrazione di come il Napoli sa sfruttare molto bene gli errori avversari. Perché che è successo qui ragazzi? Allora qua il Milan secondo me ha difeso male perché come potete vedere innanzitutto dietro abbiamo Pavlovich che sta in marcatura su Lukaku. Lukaku inizialmente vedete è in fuorigioco però che succede? La difesa del Milan, la linea, va avanti quindi fa il fuorigioco, si spingono avanti. Pavlovich invece rimane un po' fermo e successivamente si abbassa. Quindi va ad annullare la linea di difesa alta del Milan e quindi annulla il fuorigioco su Lukaku che rientra appunto in gioco. Secondo errore secondo me lo fanno due giocatori del Milan. Uno è Okafor che sta diciamo in una posizione che non si capisce, non sta né largo né troppo stretto. E il secondo errore secondo me lo fa Fofanà che secondo me era quello che doveva andare a marcare Angissà. Perché guardate Angissà ragazzi è totalmente solo, è solo qui senza che nessuno lo vada a schermare. E Rachmani vede appunto che Angissà è libero, quindi primo passaggio. Qui nel mentre c'è il discorso di Pavlovich che quindi rimette in gioco Lukaku. Angissà vede comunque questo spazio per Lukaku perché comunque la marcatura su Lukaku non era così stretta. Il Napoli con due passaggi approfitta degli errori e quindi poi Lukaku si troverà davanti alla porta e con una freddezza incredibile va a fare il gol dello 0-1. Passiamo a Scott McTominay che si prende 6 e mezzo. Allora McTominay molto bene nella doppia fase. Si è visto dietro a vincere i contrasti, vincere i duelli. Si è visto in avanti, come vi ho detto prima McTominay ha fatto a tutti gli effetti l'attaccante, diciamo la seconda punta tra virgolette e stazionava sul centro-sinistra. Con Lukaku che invece si allargava un po' sul centro-destra. Era a tutti gli effetti un 4-4-2 con McTominay e Lukaku davanti e Kvara in una posizione un po' ibrida. Do 6 e mezzo e non 7 perché non è stato preciso in fase di finalizzazione. C'è stata l'azione quella del 3 contro 2, dove comunque McTominay secondo me l'ha sfruttata male. Ha fatto in generale un paio di tiri che però erano inocui, centrali, facilmente parabili. Quindi è mancato un po' nella fase di finalizzazione, però in tutto il resto ha fatto come sempre un ottimo lavoro. Politano 6 e mezzo, Politano tanto lavoro come sempre di sacrificio dietro, Politano ieri si è visto molto bene ballare tra il terzio della difesa 5 e l'esterno di centrocampo a 5. Da segnalare comunque che l'azione del 3 contro 2 di Kvara, McTominay e Lukaku la innesca Politano perché fa questo passaggio alto per Lukaku che poi fa la sponda di testa per Kvara e poi c'è il 3 contro 2. Sta facendo molto più lavoro dietro che davanti e quindi 6 e mezzo. E ragazzi, l'altro migliore in campo perché Kvara doveva essere il migliore in campo, meritava di essere il migliore in campo. Allora ragazzi, Kvara, vi ho detto prima, grazie all'aiuto del terzino ha fatto il gol. I campioni fanno questo, i campioni hanno un'occasione e la sfruttano bene. Kvara a San Siro lo scorso anno, ma soprattutto due anni fa ce lo ricordiamo, specialmente in quell'andata dei quarti di finale contro il Milan in Champions, subito inizio partita, che lui non segna. Kvara sotto questo punto di vista ha fatto lo step in avanti. E a tutti quelli che lo criticano, dico sempre la stessa cosa. Pregate, pregate tantissimo affinché rimanga qui il più possibile perché Kvara è un giocatore da Real Madrid, da Manchester City, da Bayern, da Barcellona e se rimane qui pure l'anno prossimo, è già un miracolo. Non perdete tempo a criticarlo dove non è colpa sua, perché se contro la Juve non ha potuto fare niente è perché avevamo un atteggiamento di squadra ultradifensivo e non aveva dalla sua parte né l'aiuto di Oliveira né l'aiuto di McTominay. Io ve lo voglio sempre ricordare perché Kvara contro la Juve giocava da solo contro tre difensori la Juve, ieri Oliveira l'ha aiutato. E qui la differenza. Andatevi a rivedere le partite dello Scudetto. Kvara veniva sempre aiutato dal terzino, dalla mezzala e dall'altra mezzala che veniva sul suo lato per fare densità. Kvara è l'ultimo che va criticato. L'ultimo, e ve lo ribadisco, pregate la Madonna affinché resti anche l'anno prossimo. Perché Kvara è l'unico fuoriclasse che noi abbiamo in squadra. E c'ha 22-23 anni se ricordo bene. Quindi può ancora migliorare. Detto questo, gol ma non contento. Fa anche due potenziali assist. Uno per Lukaku e uno per McTominay nell'azione del 3 contro 2. Quindi davanti è stato decisivo. Sia con i gol che con gli assist. Poi gli assist non sono stati sfruttati, però li ha messi dietro un lavoro difensivo coi Fiocchi. È tornato tantissime volte dietro a dare manforte all'Olivera, a fare raddoppi su Okafor. L'unica cosa che mi viene da dire è sempre su quell'azione che ha portato al gol di Morata che poi viene annullato. Lì Kvara secondo me è stato troppo morbido col pressing su Okafor perché lo ha lasciato... No, Suqueze, scusate, era Suqueze. È stato troppo morbido sul pressing perché Suqueze si è potuto sistemare il pallone e mettere il cross con una calma che secondo me non gli doveva essere concessa. Quindi l'unica pecca secondo me della partita è stata quella. Poi per il resto lavoro incommiabile dietro e davanti è stato decisivo. E i campioni, ve lo ripeto, hanno un'occasione e fanno gol. E Kvara l'ha fatto. Otto è il premio di meno fine match che gli è stato dato ieri, è meritatissimo. Lukaku, sette e mezzo. Lukaku ieri è stato servito bene, innanzitutto. Ha vinto tanti duelli, tanti scontri fisici con Pavlovich e con Chao. Sponde per i compagni, il gol con una freddezza unica. Ieri Lukaku è stato impattante. Sicuramente ha aiutato anche l'atteggiamento difensivo del Mina perché con le squadre comunque che giocano alto Lukaku può essere più pericoloso perché comunque non attacca la profondità come Osipen, ok? Perché quello è impossibile. Però lo fa, specialmente quando è in linea con i difensori. Questo lo ripeterò all'infinito. Subentrati, Mazzocchi 6, è entrato bene. Conte secondo me ha fatto un cambio intelligente con Mazzocchi perché era entrato Leao e Politano era stanco. Quindi Conte che ha detto, metto Mazzocchi che dà una mano a Di Lorenzo. Quindi ho due, diciamo, giocatori difensivi su Leao che dovrebbe quindi fare poca roba. Leao tutto sommato ha fatto solo un tiro pericoloso, poi per il resto è stato schermato bene sia da Mazzocchi che da Di Lorenzo. Quindi il 6 io lo voglio dare perché comunque è entrato al settantesimo. Però in quei 20 minuti ha fatto un lavoro difensivo buono su Leao, grazie anche all'aiuto di Di Lorenzo. Neres 6,5. Due passaggi chiave in 13 minuti, quindi dal punto di vista offensivo in quel poco tempo che ha giocato ha creato pericoli. Poi Simeone 6 perché comunque è entrato con un piglio come sempre encomiabile. Si è preso dei falli, dei duelli aerei li ha vinti, qualche incontrasto. Quindi ha fatto una partita dal punto di vista difensivo buono. Quindi il 6 io lo voglio dare. Foloruncio e Zerbin per forza di cose dove senza voto perché sono entrati proprio negli ultimissimi minuti. E infine ragazzi Conte 7,5 perché comunque come ho detto anche nel post partita di ieri sera ho avuto delle risposte. Io a Conte chiedevo un po' più di coraggio e il coraggio l'ho visto. Specialmente nella prima parte del primo tempo e nella parte finale del primo tempo. La parte centrale un pochino di paura in Conte l'ho vista perché comunque si sentiva anche da Dazon che Conte voleva che gli attaccanti si schiacciassero all'indietro. Un pochettino di paura lì si è vista però poi 2-0 tu ti aspetti che il Napoli entri nel secondo tempo per fare difesa oltranza e contro il piede. Invece no, il Napoli ha continuato e si è rischiato anche di fare il 3-0. Quindi ho visto il coraggio che chiedevo da Conte. I cambi sono stati ancora una volta intelligenti. Allora Conte con i cambi ormai ha sgamato perché io ormai ho capito come ragiona. Mette Mazzocchi al posto di Politano, Polonuncio nei minuti finali per dare un po' più di difesa, Simeone al posto di Lukaku, Neres, Elvice e Kvara. Quindi le gerarchie dal punto di vista delle sostituzioni ormai si sono capite. Però le tempistiche con cui fa questi cambi sono molto intelligenti. Ribadisco il cambio di Mazzocchi dopo che è entrato Leao. Per me è stato molto intelligente. La partita l'ha studiata bene, l'ha condotta bene, l'atteggiamento è stato fin dal primo momento positivo e coraggioso. I cambi sono stati buoni. Sulla conferenza stampa non ho niente da dire. Una vittoria a San Siro contro il Milan è significativa. Poi sì, non sarà stato il Milan degli invincibili, va benissimo. Però è pur sempre una vittoria contro una squadra che ambisce ai piani alti della classifica. È in trasferta poi soprattutto. Posso soltanto che fare i miei complimenti e spero e mi auguro che si prosegua sulla farsa riga dei primi 15 minuti del primo tempo e in generale anche del secondo tempo. Perché comunque il Napoli nel secondo tempo si ha gestito. Però quando ha avuto l'occasione di attaccare lo ha fatto e si è rischiato anche di fare il 3-0. Quindi sono ampiamente soddisfatto da quello che ho visto ieri sera. E quindi ragazzi, il video finisce qui. Ditemi un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati e introducire nuovi contenuti sul Napoli. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre e comunque. Mi raccomando, state tutti molto calmi. Piedi per terra. Domenica adesso c'è l'Atalanta. Che secondo me sarà molto più difficile rispetto al Milan. È ancora presto per fare certi discorsi. Però ieri sera il Napoli comunque un segnale forte lo ha dato. Iscrivetevi. Grazie a tutti.